sono pezzatissimo, ho sudato come non so che cosa ho avuto l'ansia per quasi tutta la partita soprattutto specialmente negli ultimi 10 minuti ho avuto un'ansia che non cresceva più è stata una sofferenza incredibile ma ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta il Toro esce da Cremona con 3 punti esce da 3 punti che si sapeva fin dall'inizio, fin dal pre partita anche che sarebbe stato difficile prenderli si sapeva fin dall'inizio perché comunque il Cremona la Cremonese, il Cremona la Cremonese ha giocato nelle ultime due partite in Serie A ha giocato un ottimo calcio ha saputo farsi valere ha saputo farsi valere sia con la Roma che con la Fiorentina sia con la Roma che con la Fiorentina ha saputo farsi valere è riuscita a mettere in difficoltà quelle due squadre e vedendole giocare così in trasferta in casa ci si aspettava che sarebbe stata una partita difficile così è stata ma bisognava prendere i 3 punti e i 3 punti sono stati portati a casa l'importante è che l'importante è quello i 3 punti sono stati portati a casa oggi è stato abbiamo giocato abbiamo giocato molto bene il Toro è stato molto è stato praticamente sempre quasi sempre in partita tranne negli ultimi 10 minuti dopo il gol di Sernicola il Toro è completamente scomparso il Toro è completamente sparito dal campo ho visto molto male Singo detto sinceramente Singo va bene che comunque ci mette sempre un pochino a carburare è ok però inizia a carburare presto Wilfred per favore te lo chiedo per favore comincia a carburare un po' prestino eh per favore grazie detto questo c'è anche Shurs alla sua prima da titolare l'ho visto molto molto bene alla fine ha fatto una chiusura su Ciofani che è stata l'estasi è stata veramente l'estasi e che dire ci serve un finalizzatore secondo me al Toro serve un finalizzatore perché ci siamo mangiati una marea di gol davanti alla porta un certo con il mi sembra il tiro di Radonic il tiro di Radonic Radonic ditelo come cazzo vi pare quel tiro di Radonic che Radu ha parato con la mano di richiamo e mandato in calcio d'angolo ci siamo stati molto molto sciuponi siamo stati molto più cinici di loro perché comunque la Cremonese ha giocato una signora partita ha fatto una signora partita e fosse finita in pari fosse finita in pari non avrebbe rubato niente a nessuno la Cremonese non avrebbe rubato nulla fosse finita in pari è stata una partita totalmente equilibrata ma non lo dico soltanto io lo dicono anche le statistiche che ce le ho qui davanti a me ce le ho qui davanti agli occhi lo dicono anche le statistiche è stata una partita completamente equilibrata e mi sono cagato addosso gli ultimi dieci minuti sono stati veramente un cocktail un mix di ansia sudore freddo e roba simile perché abbiamo rischiato moltissimo dopo il gol dell'1 a 2 dopo il gol di Cernicola abbiamo rischiato veramente di prenderci subito dopo il 2 a 2 dopo con quell'entrataccia di Linetti da dietro abbiamo rischiato di prenderci il 2 a 2 poi per fortuna l'hanno sciupata per fortuna però il Toro ha portato a casa i tre punti è stato abbiamo giocato la nostra partita abbiamo fatto quello che dovevamo fare la Cremonese anche ha giocato la sua partita e a me va bene così a me va bene aver portato a casa i tre punti abbiamo portato i tre punti ed è quello che conta e questo è quello che conta e questo è quello che conta ora testa a Bergamo all'Atalanta che lì davvero sarà molto 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 difficile nessun calo di concentrazione per piacere perché preferirei non cagarmi addosso come mi sono cagato addosso oggi cioè se si continua così a me prima o alla fine della stagione mi pia un infarto io lo dico io lo dico cioè evitiamo grazie grazie a tutti grazie a tutti